Musica Mancano davvero poche ore all'inizio dell'anno nuovo. Quest'anno che si sta chiudendo è stato comunque per me assolutamente positivo, con tantissime date, importanti collaborazioni. In recente ho anche partecipato a un evento, la clinic di Doffa Mularo. Lui è un batterista strepitoso oltre che un comunicatore e ce l'avremo in esclusiva con l'Accademia di Musica Moderna l'anno prossimo. Vi darò tutte le informazioni. Vi garantisco che oltre ad essere un evento educativo a livello batteristico è anche assolutamente molto molto divertente, quindi vi lascerò poi tutti i dettagli. Oltre a questo voglio cominciare a illustrarvi i miei impegni per il prossimo anno. Partirò a gennaio per un tour con i Queen Mania, vi metto le date di sovraimpressione e anche le informazioni per coloro che volessero ritrici a trovare. Oltre alla mia attività live e di docente, io curo anche una rubrica su Drum Club. Drum Club è una rivista di batteria che esce in edicola a febbraio, aprile, giugno, settembre e dicembre. Il prossimo numero sarà su Tommy Aldridge, famoso batterista che ha suonato con Ozzy Osbourne, Weissneck, Gary Moore, eccetera eccetera. Quello che è nell'edicola attualmente presenta l'articolo di Tico Torres, batterista di Buongiorno. L'articolo è corredato anche da analisi del suo stile e soprattutto anche trascrizioni dei brani. Vorrei in questa sede presentarvi anche i miei tutorials, partendo primo fra tutti con il metodo di batteria che ho pubblicato per Karish. Questo è un metodo bilingue, quindi anche in inglese, ed è distribuito in tutta Europa e anche in America. Tratta dell'analisi degli stili nordamericani e sudamericani, sono in definitiva i generi più comuni che ascoltiamo, e spiega come approcciarsi batteristicamente a un determinato tipo di genere, tramite delle basi, dove in un canale c'è la musica, nell'altro c'è la batteria, in modo che si può escludere l'uno e l'altro mentre si sta cercando di eseguire il brano. Ci sono dei ceni storici, spiegano appunto l'origine del genere e i musicisti di riferimento, ed è anche corredato da delle partiture musicali. Questo metodo è dedicato soprattutto ai batteristi che vogliono trasformare la loro passione e il loro studio in qualcosa di pratico. Insegna infatti a suonare diversi generi e a capirne le caratteristiche essenziali. Il metodo di batteria è reperibile nei principali negozi di strumenti musicali e librerie che trattano musica, ma lo potete trovare anche online, vi lascio qualche indirizzo per coloro che volessero reperirlo. Oltre al metodo di batteria io ho realizzato anche due cd audio con loop di batteria, mi spiego meglio per chi non fosse pratico, sono delle frasi di batteria di una o due misure che vengono soprattutto utilizzate dai produttori per fare nuove composizioni. Tanti li usano anche a scopo didattico suonandoci dietro. E soprattutto il secondo cd ha un ulteriore sviluppo perché mi sono a basso della collaborazione di turnisti, amici, musicisti, bassisti. Pertanto oltre ai loop di batteria ci sono anche quelli di basso, quindi diciamo che il lavoro risulta molto più completo. Di entrambi i lavori io ho avuto assolutamente delle recensioni molto positive. Vi lascio in sovraimpressione un link dove potete trovare maggiori informazioni anche sulla musica. Infine vi invito a visitare la mia pagina web su YouTube. Ho creato appunto uno spazio dove ho inserito tutti i miei video presenti ma anche del passato. Ci sono un sacco di chicche come l'esebizione di Sanremo, il Festival Bar, ci sono un sacco di concerti. E ultimamente sto anche inserendo dei video didattici. Spero che questo lavoro vi piaccia, io continuerò a farne sempre di più. E vi invito quindi alla visione, vi lascio in sovraimpressione e dei miei tipi al cerchio. Oltre alla mia pagina su YouTube vi invito anche a visitare il mio sito che è sempre aggiornato. Ho anche una pagina di Facebook che visito ogni tanto. E sono presente anche su Wikipedia. Vorrei concludere augurandovi un buon anno a voi tutti e alle vostre famiglie. In particolare io voglio mandare un saluto a tutti i miei allievi che mi stanno dando veramente un sacco di soddisfazione. Grazie ragazzi, io sto andando a festeggiare, spero facciate un buon capodanno. Ciao a tutti e alla prossima.